ciao amici del club delle ricette prepariamo insieme la pasta cremosa al tonno iniziamo facendo rosolare l'aglio con un filo di olio d'oliva aggiungiamo la passata di pomodoro saliamo pepiamo e facciamo cuocere per una decina di minuti uniamo ora il tonno le olive i pomodorini secchi mescoliamo il tutto e lasciamo insaporire mettiamo il formaggio spalmabile amalgamiamo per bene e spegniamo il fuoco scoliamo la pasta aggiungiamola direttamente in padella e mescoliamo per bene spolveriamo con un po' di padella prezzemolo fresco tritato e voilà ecco pronta una cremosissima pasta al tonno davvero imperdibile per tantissime altre ricette ricordati di scaricare gratis la nostra app